Perché la maggior parte delle persone non ha serenità? Dimmelo tu, perché non ha serenità? Ma perché fondamentalmente non ha troppe fonti di stress e le fonti di stress sono quelle poi generate da un sistema fatto apposta affinché tu possa avere stress. Ricordiamoci che una persona serena è preoccupante, è pericolosa. Una persona serena è libera, una persona serena non è controllabile. Quando sei libero finanziariamente, qui non sei legato a... attenzione, libero finanziariamente, parliamo di un altro concetto di libertà finanziaria perché anche qui se ne potrebbe parlare. La libertà finanziaria è tanto più difficile quanto più sei incastrato all'interno dei tuoi bisogni. Perché? A 24 anni il mio fabbisogno mensile era di... io spendevo qualcosa come... c'erano ancora le lire? Insomma, quando c'erano ancora le lire, quando c'è stato il passaggio? Negli anni più o meno 98-99 io personalmente spendevo 100 milioni di lire al mese. Quindi il mio fabbisogno era di 100 milioni di lire al mese, parliamo di 50 mila euro mensili. Io li spendevo, non mi chiedete come, li spendevo. Ed erano il minimo indispensabile per me. Ok? Oggi il mio fabbisogno forse per tutto non arriva a 1500 euro al mese. È vero che vivo dall'altra parte del mondo, ma è anche vero che non ho più bisogno di avere una BMW sotto al culo, non ho bisogno di avere due moto, tre ville, case in giro per il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, a mano a mano che ti liberi dei bisogni di dover dimostrare alla gente o di doverti sentire figo, di dover far vedere che c'hai chissà che cosa, perché così gli altri pensano che tu hai una posizione sociale maggiore, ti rendi conto che il tuo fabbisogno monetario diminuisce moltissimo. Quindi nel frattempo ti risolvi i bisogni, diventi più sicuro e si abbassa il fabbisogno monetario. Diventa molto più facile diventare libero finanziariamente, perché a quel punto meno bisogni hai, meno stress hai, più diventi creativo, più tempo hai e più puoi trovare soluzioni creative per poter creare delle rendite. Ovvio che se seguissi ad esempio il corso gratuito sulla mentalità finanziaria che trovi su Anaera e che ho fatto apposta, gratis, perché tutti lo dovrebbero vedere, ti rendi conto che devi prima cambiare le tue credenze, quindi switchare la mente dal concetto tempo-denaro, quindi io scambio tempo per denaro, in un nuovo concetto di io creo progetti che generano rendite. Quindi mi faccio un culo X per tot tempo, dove non guadagno un centesimo e dove mi impegno mattina, notte e giorno, per poi metter su quella rendita che poi io non devo più guardare, devo soltanto vedere quanto va avanti, oppure ogni tanto devo verificare qualcosina, capite? Quindi una cosa è, io dicevo sempre, quando mi viene proposto qualcosa, adesso vabbè, sinceramente non accetto neanche più niente, perché non ho, non ho proprio più voglia di fare robe dove mi devo impegnare troppo, se non è in linea con la mia missione non accetto più niente. Ma prima che pensavo a generare rendite, o a generare dei sistemi di rendita, il principio di fondo era il cosiddetto test dei Caraibi, anzi adesso a questo punto direi, più che dei Caraibi, visto che sono dall'altra parte del mondo, potrei dire il test delle andamane, che siamo più vicini da queste parti. Il test dei Caraibi cos'era? Cioè nel momento in cui io mi preparavo un progetto, o ipotizzavo un progetto, la mia domanda primaria era, una volta messo a regime, questa roba qui la posso gestire, osservare, da qualunque spiaggia dei Caraibi, con un cocco in mano? Se la risposta era sì, la facevo. Se la risposta era no, perché devi fare, devi incontrare, devi parlare, devi fare appuntamenti, devi stare su, devi stare giù, non ci pensavo neanche. Quindi questo è il principio di fondo. Cominciamo a ragionare in funzione di questo. Quando cerchiamo qualcosa del genere, allora la nostra mente inizia a trovare soluzioni diverse, perché se il nostro concetto di base è, devo scambiare tempo per denaro, io cambio un lavoro per trovare un altro lavoro classico. Se invece cambiamo, attenzione, un lavoro può essere anche l'imprenditore, perché l'imprenditore lavora ancora di più del dipendente, quindi un imprenditore che fa un'impresa per rendersi schiavo, non è un imprenditore, è un dipendente che si spaccia imprenditore, cioè un dipendente della propria azienda, ma l'azienda in realtà non è, concettualmente non è sua, perché è l'azienda che è il padrone del dipendente imprenditore. Invece l'azienda va creata in rendita, cioè è il principio di, il bravo imprenditore deve tendere a diventare inutile quanto prima possibile. Questa è la base. cosa che io non sapevo, ho fatto l'esatto opposto. E spesso e volentieri gli imprenditori dicono eh no, senza di me l'azienda va a puttane, e ho capito, e allora non hai capito niente. Cioè senza di te l'azienda deve andare avanti, da sola, anche se tu non ci sei. Ecco perché deve essere reso tutto automatico. Non ci devo più pensare. E questo è il concetto di automatismo. Capite? Quindi ragionate in funzione di questo, ragionate in funzione di rendita automatica, e soprattutto guardatevi bene, bene, il corso sulla mentalità finanziaria. Grazie. 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 Grazie.